Quante volte capita a me e a te di non sapere approfittare bene il nostro tempo? Ebbene, Santa Teresa di Gesù Bambino viene a dirci che non dobbiamo perdere nemmeno un'occasione, nemmeno un minuto per poter fare un'azione d'amore, per poter fare un piccolo sacrificio. E come si fanno i sacrifici? A volte anche solo con un semplice sorriso, in un momento in cui non ti senti di sorridere ad una persona a cui non vorresti sorridere. Con una parola gentile, con un'espressione carina per qualcuno che magari in quel momento non se lo merita. Ecco, fare tutto con amore e per amore, perché Teresa ci ricorda ancora che nulla è piccolo se è fatto con amore. Niente è piccolo se è fatto con amore. Allora in questa giornata, in questa settimana, io voglio invitarti proprio a fare tanti piccoli atti d'amore, tanti piccoli sacrifici ed offrirli al Signore proprio come preghiera gradita a Lui, elevare a Lui la tua preghiera attraverso la tua quotidianità e attraverso le piccole cose. Che Dio ti benedica, una buona giornata.